Cipolla, pancetta, due giorni... È giusto? È giusto. È bravo. Non rossa. Ma il ricerchia è rossa. E poi è rossa. Cipolla, pancetta e il sugo. Si, è un po' di data. Se fai la buona mangiare. Ammazza, sei pensieroso, è giovane. Ammazza. C'ha la tasca piena di soldi. C'ha la tasca piena di soldi e sei pensieroso. Io che sono a bolletta sono sempre allegro. È sempre così. Per il cinema non ha dei soldi. Per il cinema non ha dei soldi. Per il cinema non ha dei soldi. Il Giovanni sta riprendendo. No, non sto riprendendo io. Volevo fare una foto, non la devo fare? Sì, sì, la foto si prese. Non la so. No, no, i video... E poi da lì magari si crema la panca. E poi ci ha fatto la foto di un pieto. No, non mi ricorda. No mi ricorda, quella... E poi si ricorda di un po' del metodo. Bene, c'è la mia moglie. Ho fatto un po' di casa. E poi così… Eh, moglie. Dove vai? Grazie.